Prima di andare a dormire, per questo aiuterà a eliminare il grasso addominale durante la notte. Il grasso addominale è un vero mostro nella tua cavità addominale. Non solo ti porta problemi di salute, ma è anche uno dei tipi più difficili di grasso da eliminare. Tuttavia, è possibile eliminarlo durante la notte solo utilizzando un semplice suggerimento. Questa bevanda naturale ti scintossica in tuo corpo e stimola il tuo metabolismo mentre dormi, aiutandoti così a bruciare il grasso addominale a un tasso più veloce. Il fatto è che l'accumulo di tossine nel corpo può causare l'eccesso di grasso addominale. E' consumare cibi e bevande che eliminano tossine e sprechi dal tuo corpo ti aiuterà a iniziare a bettere peso. La bevanda di bettita di peso che condividiamo con voi oggi vi aiuterà a bettere il grasso addominale e ridurre il rischio di varie malattie. Basta bere ogni giorno per vedere i risultati sorprendenti in breve tempo. Ecco come preparare. In primo luogo, preparare 5 grammi di sencero fresco e tagliacolo a fette. Il tratto tecnogenico dello sencero accelera il metabolismo e quindi accelera la combustione delle calorie e eliminazione del grasso addominale. Lo sencero aiuta anche a sentirsi bene, quindi mangiare sencero o bere acqua di sencero può aiutare a frenare la voglia di mangiare troppo, come un soppressore naturale dell'appetito. Consumare sencero è uno dei modi migliori per aiutare a bettere peso e in processo di riduzione del grasso addominale. Ora tritare lo sencero e aggiungere lo sencero tritato in una ciotola. Consumare sencero e aggiungere il grasso addominale. Il cumino può aiutare a bruciare calorie più velocemente, aumentando la velocità del metabolismo e migliorando la digestione. Quando si dispone di un sistema digestivo sano e il metabolismo più veloce, si vede automaticamente peso. Aggiungere un cucchiaino di semi di cumino nella ciotola di sessero tritato. A questo punto prendere una ciotola e aggiungere un litro di acqua. Avrete bisogno di cucinare quest'acqua fino a ebullizione. Quando l'acqua è pulente, passare sencero e semi di cumino nella ciotola. Fa pulire quest'acqua a fuoco medio per 2 o 3 minuti. Dopodiché spegnere il fuoco e lasciare che quest'acqua raffreddere fino a quando tempida. In attesa che l'acqua si raffreddi, tagliare un mezzo lime e aggiungere il suo succo in una ciotola. L'acido citrico nel succo di lime può aumentare il metabolismo, aiutandoti a bruciare più calorie e a immagassinare meno grassi. Quando l'acqua è tiambita, aggiungere il succo di lime. Quindi aggiungere un cucchiaio di sirupo d'acero per andoccire. Mescolare bene il composto con un cucchiaio. Puoi filtrare la bevanda in una tassa e la vostra bevanda di benita di peso è pronta a consumare. Si consiglia di bere una tassa di questa bevanda al mattino al stomaco vuoto e un'altra tassa proprio prima di andare a dormire per i migliori risultati. Questa bevanda deve essere consumata per almeno due settimane. E alla fine, se ti piace questo video, taglio un buon riuscito in alto e condivido con i miei amici. Se vorresti buon riuscito ai suoi commenti, iscriviti al canale!